gentili telespettatori buona giornata rassegna stampa di oggi venerdì 29 aprile 2022 caduta dei divieti ciao ciao speranza fine del green pass giù le mascherine e poi vedremo che altri giornali non parlano propriamente di ciao ciao speranza e intanto vediamo il sondaggio esclusivo radiografia del fenomeno giorgia oggi il via la convention di fratelli d'italia ecco chi sono gli elettori della meloni e come è cambiata la destra oggi a milano inizia la tre giorni di fratelli d'italia per stendere la treccia del programma di governo con il quale presentarsi alle elezioni politiche del prossimo anno è un momento di difficoltà per il centro-destra diviso tra governo e opposizione e reduce da brutte sconfitte nei territori destinate a ripetersi tra poco più di un mese ma non è che c'è una divisione perché c'è un centro-destra di governo e uno di opposizione c'è una divisione creata da matteo salvini e da berlusconi contro giorgia meloni che non riescono ad accettare ad assimilare che sia lei il capo del centro-destra e che sia fratelli d'italia il primo partito italiano e poi vediamo l'unione europea invoca lo stop ai flussi poi si stupisce se mosca acconsente il caos sul gas se lo ce lo siamo cercato l'occidente odia se stesso e sbaglia il senso di colpa e poi vediamo che i 5 stelle affamati di soldi mossa per incassare il 2 per mille pubblicato in gazzetta ufficiale lo statuto i 5 stelle sono diventati ufficialmente un partito come tutti gli altri ma questo anche senza l'ufficialità lo avevamo già capito concentrati al sud reddito grillino fuori controllo i costi si impennano e poi l'ente fantasma da 500 milioni non fa nulla ma noi paghiamo la storia della eneatec fondata due anni fa il caro giustizia altro che riforma il csm moltiplica incarichi e poltrone adesso andiamo a vedere un altro quotidiano vediamo che cosa c'è disponibile abbiamo la verità tortura mascherine fino al 15 giugno come vi dicevo prima l'altro giornale parlava di fine dei divieti e invece qui dicono l'opposto tortura mascherine fino al 15 di giugno smentite le promesse di normalità della conferenza stampa di draghi l'obbligo resta sui mezzi di trasporto nei cinema nei teatri nelle palestre nei palasporti soprattutto nelle scuole un inutile cattiveria senza alcuna base scientifica un concentrato di contraddizioni medi in speranza che fa di noi un'eccezione nel mondo in negativo e sono completamente d'accordo con la verità e poi vediamo bollino verde gender altrimenti l'unione europea ti impedisce il lavoro gas rubli e contorsioni l'europa è nel pantano prime crepe nel muro dell'oltransismo americano e poi con la scusa della crisi internazionale manipolano gli alimenti in francia sostituiscono l'olio di girasole senza dichiararlo in etichetta e come in italia quantità ridotte a parità di confezioni e di prezzo cosa vuol dire piuttosto che aumentare i prezzi nel in un prodotto che voi solitamente comprate cosa fanno il prodotto rimane lo stesso ma diminuisce la quantità cercando di non fare accorgere al cliente finale ne abbiamo parlato almeno in due video su questa tecnica di vendita che rasenta la truffa e andiamo a vedere alle radici dello scompiglio chiamato Elon Musk dal cosmismo al transumanismo per arrivare a twitter ma sto tipo sto signore coi soldi lasciategli fare quello che gli pare adesso vuole comprarsi anche la coca cola forse e vabbè lasciamogli fare quello che vuole c'è i soldi e che se e che se li spenda come più gli piace andiamo a vedere il tempo la sfida di lollo brigida a milano per rilanciare l'italia intervista esclusiva al capogruppo di fratelli d'italia sulle tre giorni di convention dure critiche all'esecutivo il governo dei migliori si è dimostrato mediocre atteso per oggi l'intervento di giorgia meloni poi spazio ai conservatori e il tempo di oscio basta con le mascherine anzi no l'obbligo fino al 15 di giugno in autobus e cinema dice oddio me sei incollata e poi la destra romana riunita per salutare donna assunta e il premio carli apre a sport arte e spettacolo intervista a romano liuzzo e l'ancester roma uno a uno si decide tutto giovedì all'olimpico esaurito semifinali di conference league e andiamo poi a vedere che in campi d'olio in pianti sportivi svolta più vicina rifiuta tari meno cara ma non per tutti e adesso andiamo a vedere il messaggero che titola addio alle mascherine in ufficio da lunedì fino al 15 giugno obbligo su autobus nei teatri e a scuola occasioni da cogliere la spinta delle imprese e il ruolo di roma l'atto di accusa della corte dei conti opere a rilento 11 anni per il via libera troppa burocrazia va sbloccata subito la orte civita vecchia e poi andiamo a vedere andiamo a vedere il sole 24 ore che titola bruxella anche for di ordinari al pnrr per frenare gli effetti della dell'inflazione gas prezzi in calo quello che occorre sapere per capire le scelte europee e poi fino al 15 giugno mascherine al chiuso sui mezzi di trasporto e bonomi cuneo fiscale con il taglio da 16 miliardi una mensilità in più e adesso andiamo a vedere il resto del carlino c'eravamo illusi la mascherina resta obbligatoria fino al 15 giugno sui treni autobus al cinema al teatro soltanto raccomandata al ristorante nei centri commerciali la chirurgica non basta serve la ffp2 siamo l'unico paese dell'unione europea con regole così severe nonostante il virus sia assolutamente sotto controllo e poi il resto del carlino parla della meloni la nuova sfida di giorgia la leadership e poi andiamo a vedere no qui è tutto io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata